Vorrei mangiare una cosa leggerissima, che so, un risotto con olio e parmigiano e del prezzemolo sopra. Il prezzemolo non ci sta. Tutti ieri io proponiamo a tutta la Sicilia uno spettacolo che è una commedia popolare scritta da noi e con la regia di Roberto Spicuzza che si chiama Ma tu che lavoro fai? Una bella commedia che vede in scena anche Tiziana Martilotti nel ruolo della figlia della portinaia e un magnifico monumentale Paolo Labruna che è il padrone di casa, vittima di questi due coinquilini che siamo tutti nel dio. La commedia prossimamente avrà due giorni di replica al metropolitano in Catania il 23 e il 24 di aprile e successivamente la prossima settimana siamo a Città della Notte ad Augusta e poi il tour proseguirà in estate in altre date che vi comunicheremo. Soltanto un consiglio, venitela a vedere perché sono due ore di assoluta spensieratezza e di una o uno o due o tre tonnellate di risate, non lo so quante, ma tante, tante. Ormai è un'unione collaudata la vostra che dura tanti anni. Come vi sopportate e come scrivete questi spettacoli insieme? Perché la maggior parte delle volte è andata a braccio. Allora, innanzitutto hai detto una cosa sacrosanta. Noi ci sopportiamo perché dopo tanti anni di sodalizio diceva vabbè ma ormai c'è l'abitudine, ma qua l'abitudine noi nascerremo come i cani. No, no, il fatto è che il nostro affetto è talmente tanto, è talmente grande che può sopportare qualunque scossone che può essere una litigata, una divergenza di opinione e di idee. ci sopportiamo, andiamo avanti e lo scriviamo insieme o per meglio dire lo pensiamo, lo ragioniamo, lo scriviamo, lo commentiamo poi arriviamo sul po' cosciente e facciamo un'altra cosa. No, no, hai detto bene, a noi piace tanto improvvisare però la linea guida del copione, quella non viene mai abbandonata assolutamente. No, no, hai detto bene.